Adesso 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 E proprio ne uscivo di lì ieri sera c'entravano molti padron di miniera e il capo dei diavoli brandendo il forco ma proprio al suo nome faceva allusione Ma per i padroni avrà dei riguardi, sì certo nel fuoco gli sbatte coi guanti, di corio li annappia e di pecce ancora più, e quando son cotti li butta laggiù. De ridan, dan, dan, de ridan, donna lui disse ti faccio un saluto, l'inferno che dici mi è poco piaciuto e corro in miniera.